Allora, le coppe sono state una scoperta, non avevo mai sentito parlare di questa cosa, quindi iniziandole a usare anche correttamente, anche lì ho iniziato a vedere dei benefici e mi sono accorta che effettivamente, provandole un po' su tutto il corpo, fatalità dove mi davano più fastidio era proprio questa zona qui. Invece adesso, mano a mano, sento sempre meno fastidio, quindi anche con la crema, con l'olio sotto la doccia, ho le mie coppette e ogni giorno mi faccio i miei cinque minuti per gamba. Sono diventata anche molto più disciplinata nello svolgere le cose che poi fanno bene a me.